Un caro saluto ai nostri telespettatori e bentornati alla rubrica dalla parte del cittadino con l'Avvocato Risponde. Di nuovo in studio il nostro ospite, Avvocato Francesco Pavani, rappresentante della Camera Avvocati di Sandona di Piave. Buongiorno. Tratteremo oggi una questione abbastanza interessante che ci viene sottoposta in varie domande che arrivano in studio all'indirizzo email che troverete in sovrimpressione. Rivolgo subito la domanda all'Avvocato per vedere se riusciamo a trovare una soluzione a questa domanda che il nostro telespettatore ci pone. Per il rinnovo del contratto di locazione il proprietario dell'immobile desidera inserire nel contratto la clausola che mi impone a sottoscrivere una polizza cosiddetta rischio locativo. Lo può fare e io aggiungerei anche che cos'è questa polizza rischio locativo. Allora, nel momento in cui si concorda un contratto di locazione, quindi si stipula tra le parti, le parti sono libere di inserire qualsiasi tipo di clausola con l'unico vincolo che non sia contra l'EGM. Quindi è una trattativa tra privati, si possono inserire alcune clausole o meno, questo può avere rilevanza sul prezzo o sulla caparra che si concede o su quella che non si concede. Se non si trova l'accordo, semplicemente non si sottoscrive il contratto e quindi non si uscela dall'appartamento. Per quanto riguarda il rinnovo invece la questione è leggermente diversa perché per i contratti ad uso abitativo è previsto comunque che prima della scadenza bisogna eventualmente inviare una comunicazione per evitare il rinnovo automatico. La legge prevede un 4 più 4, a meno che alla scadenza dei primi 4 anni, per motivi stabiliti dalla legge, il proprietario non dia la disdetta. Se non è stata data la comunicazione di richiesta di variazione delle condizioni del contratto, tipo l'aumento dell'affitto o altro, in sede di rinnovo senza richiesta di modifica non si può inserire una polizza rischio locativo. Il proprietario non può imporla. Chiaramente può essere anche questa in fase di trattativa, tra proprietario e conduttore si ristipula un nuovo contratto che ridecorrerà dalla nuova stipula e avrà il 4 più 4, quindi un'imposizione in sede di rinnovo se non concordata non ci può essere. Le polizze rischio locativo bisogna distinguere, possono essere quelle per le quali in caso di danni che possono avvenire alle parti non comuni dell'appartamento risponde la polizza assicurativa che si aggiunge a quella del condominio, oppure una polizza che prevede che in caso di mancato pagamento dell'affitto da parte del conduttore risponde un terzo, o un'assicurazione o la banca, però ovviamente questi sono costi che aumentano perché chiaramente la messa a disposizione di denaro per conto di una terza persona richiede delle garanzie. Benissimo. Ringraziamo l'Avvocato Pavani, rappresentante della Camera Avvocata di Sanola Di Piave. Un caro saluto a tutti voi.